Cantieri aperti accoglie al Metauro. Dopo l'emergenza sanitaria sono ripartiti lavori pubblici, dalle scuole agli asfalti, dalla rotatoria all'uscita della superstrada di Calcinelli ai cimiteri di Serrungarina e di Montemaggiore al Metauro. Credo che questo sia uno dei più interessanti e forse anche dei più attesi in questo territorio. Questa rotatoria si attende da tanto tempo, è un incrocio effettivamente pericoloso nell'uscita della superstrada. In questo momento la situazione è questa. Qui c'è un cantiere in atto che è quello che ha istituito Marche Multiservizi perché prima di realizzare la rotatoria abbiamo voluto risanare tutte le reti e i sottoserviti, fogne, acquedotti eccetera. La detta sta lavorando di notte, proprio perché di giorno non vuole occupare gli spazi stradali nell'incrocio. Sta portando avanti molto bene lo suo lavoro e credo che entro una settimana più o meno lo termina. Ho sentito stamattina la detta che è un'altra che deve realizzare la rotatoria, una detta di potenza picena e loro mi hanno detto che come da accordi si insedieranno a fine giugno per proseguire il lavoro e terminare il lavoro della rotatoria. Quei 15 giorni tra i sottoservizi e l'inizio della rotatoria sono proprio appositi per far assestare il terreno che hanno mosso per fare le scavazioni che se poi ci si andasse subito sopra a fare altre opere si rischia di non fare un buon lavoro. Quindi il cantiere si insedierà a fine giugno. Buone notizie arrivano anche per le asfaltature perché mentre si stanno completando alcuni lavori in due zone della città il comune sta programmando quelli della stagione autunnale. Le asfaltature stiamo concludendo, forse hanno già concluso in queste ore tutta l'asfaltatura di via Laghi, la zona industriale Laghi e poi proseguiranno via Belvedere e Calcinelli che era compreso in quello appalto. Poi quell'appalto è terminato, noi abbiamo stanziato altri 450 mila euro che consolideremo con l'approvazione del bilancio consuntivo il 15 giugno tra dieci giorni in consiglio comunale e quindi lo finanzieremo. Saranno altri 450 mila euro di asfaltature che si riverseranno un po' su tutto il territorio, in varie zone, là dove ce n'è più bisogno. Stiamo cercando di recuperare molti anni dove i comuni non hanno potuto portare avanti queste cose perché non avevano di fatto le risorse finanziarie in passato. Dopo la pausa forzata a causa del Covid sono ripartiti anche i lavori alla scuola Dezzi di Saltara. E' chiaro che lì si pensava ad una riattivazione della scuola già da settembre, già sarebbe stato difficile probabilmente, ma dopo lo stop sicuramente i lavori proseguiranno anche nei prossimi mesi fino a conclusione, comunque sono già attivi. Mentre invece è interessante, la prossima settimana si insedierà il cantiere, entro la prossima settimana si insedierà il cantiere a Montemaggiore della scuola Ciavarini. Lì ci sarà il consolidamento di questa scuola elementare che aveva bisogno da tempo di una ristrutturazione ai fini della sicurezza, dell'antesesimicità della struttura e quindi sarà messa in sicurezza per la riapertura delle scuole perché la detta comunque lavorerà anche nel periodo di estivo senza fare ferie.